Strada provinciale 47 della Val Sugana. Il tratto da Padova a Cittadella dal 2001 non è più di competenza dell'ANAS ma della provincia. Da Cittadella al confine con il Trentino Alto Adige è invece rimasto all'ANAS. Dal confine a Trento la gestione è della provincia autonoma di Trento. Tutto chiaro? No, perché il tratto da Padova, come detto di competenza della provincia, per convenzione nel 2001 è passato sotto l'amministrazione della società Veneto Strade. Anche se la denominazione della strada è diventata SP47. Fatto sta che i circa 32 chilometri in territorio padovano sono attraversati da almeno 30.000 mezzi al giorno con picchi di 40.000. I rischi sono quotidiani e per troppe persone che la percorrono al volante. Lascio immaginare a tutti voi cosa vuol dire anche una rotonda che potrebbe essere una soluzione tampone e un'immissione particolarmente delicata come quella in cui è venuto l'incidente al caro amico Fausto. Che non facciamo peso il tacón da sbrego. Serve un progetto alternativo all'attuale strada. Da tempo si parla di una Valsugana bis che da Padova arrivi fino al casello di Rosà della Pedemontana Veneta. Va spostato lì il traffico pesante per la sicurezza, l'ambiente, ma avvisa Pettenuzzo, deve essere pur sempre collegato alla nota produttività dell'Alta Padovana. Ma visto il mix di competenze sulla Valsugana chi dovrebbe occuparsene? Regione, provincia, comuni? Regione, provincia, comuni ma anche lo Stato insomma perché alla fine i tributi si pagano nei nostri territori, vanno a finire le casse dello Stato.